Secondo me le donne dovrebbero avere più coraggio di mettersi in gioco e quella solidarietà che io oggi percepisco da parte delle donne mi piacerebbe poterla avere con la loro presenza e non con una mia richiesta perché ho la richiesta di altri candidati perché bisogna chiudere una lista ma perché insieme a me abbiamo voglia di cambiarlo questo mondo per noi, per i nostri ragazzi, per i nostri anziani, per tutti. Per la candidata sindaco Francesca Zaccariotto la scarsa presenza di donne in politica, un fenomeno particolarmente evidente a Venezia non dipende da una mancanza di spazio ma da una questione di scelte, perciò l'appello rivolto a tutte le donne, scendete in campo. Io le invito, io vorrei uscire da questo senso di solitudine che come donna vivo nella politica e mi piacerebbe veramente averle accanto a me perché sono convinta che hanno un metodo di analizzare quello che è il problema, di pensare all'organizzazione di una giornata, di una campagna elettorale, di un governo, di un territorio che è alternativo a quello che fino ad oggi ci ha regalato l'uomo. C'è tantissimo da lavorare, invita la candidata, basta solo avere il coraggio di mettersi in gioco. Io credo che oggi ci sia la consapevolezza da parte di tutti che così non si sta bene, che così non vogliamo assolutamente continuare. Ecco, questa consapevolezza deve tradursi soprattutto nelle donne in una forza dentro di loro di combattere assieme a chi oggi si è già messo a disposizione per questa battaglia.